che dici gufo di natale sarà un 2021 migliore ciao a tutti questo è semplicemente un augurio da zurico italiana e tre desideri tre speranze per quello che verrà dopo questo natale è stato un anno difficile per tutti per alcuni più che per altri e ci sono tre cose che speriamo una delle quali la speriamo tutti ma insomma sono relative più o meno allo stesso argomento l'anno prossimo spero che ci sia un anno più sereno soprattutto un'estate più serena dove possiamo passare magari una bella estate calda con i parenti già non vedo l'ora come secondo desiderio più eventi da rivivere a zurico rispetto a questo 2020 ce ne sono due che mi vengono in mente il caliente mi piacerebbe riprendermi un bello spiedino al caliente ballare un po' e divertirmi senza problemi e mi piacerebbe tornare prima o poi all'open air anche se lo zurico open air ultimamente sta diventando uno scenario non molto adatto a un bimbo nato negli anni 80 come me ma insomma se tirano fuori qualche artista invece più adatto a me ci tornerei volentieri comprerei le cuffie quelle isolanti a pub ci tornerei volentieri anche con lui e poi un bel viaggio come terzo desiderio un bel viaggio magari lontano se ce la facciamo visto che abbiamo messo da parte quest'anno non abbiamo potuto viaggiare magari un bel viaggio in Giappone ok? adesso io qualcosa del genere per tutto questo serve serve un po' di calma ancora un buon vaccino e niente tanta pazienza ma intanto un augurio a tutti di un sereno Natale fatemi sapere nei commenti insomma quali sono i vostri desideri per l'anno a venire ma credo che in molte cose più o meno lo speriamo tutti di avere un anno un po' migliore di questo 2020 ci vuole poco alla prossima grazie grazie